La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per il reato di furto aggravato. Nello specifico, personale dipendente dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico ha intercettato, in via Duca degli Abruzzi, due soggetti intenti ad armeggiare nel baule di un motociclo. Alla vista dei poliziotti i due si sono dati alla fuga e dopo un breve inseguimento gli operatori sono riusciti a bloccarne uno. L'uomo è stato quindi sottoposto a perquisizione personale che ha dato esito positivo. Lo stesso, infatti, è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso che sono stati opportunamente sequestrati. Dagli accertamenti effettuati nell'immediatezza, gli agenti hanno accertato che la moto sulla quale i due malviventi sono stati visti armeggiare era stata rubata pochi minuti prima dalla via Oliveto-Scamacca. Pertanto, una volta contattato il proprietario, gli operanti hanno proceduto alla restituzione del mezzo. Il malvivente fermato è stato accompagnato in questura per ulteriori accertamenti e tratto in arresto per il reato di furto aggravato. Il PM ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari in attesa della direttissima.